buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo video scusate per la voce ma sono troppo troppo raffreddata allora oggi ho acquistato questi laschitis che l'ho acquistate all'esterno da vicino a casa mia che erano in promozione a 3 euro e 90 mi pare invece dei 5 euro scusate per le unghie ma fanno proprio pena e quindi ho voluto provarli anch'io e quindi iniziamo subito ad aprirli allora iniziamo con questo è proprio come un cartoncino del latte qui c'è questo gattino così e qui c'è questo qui col phon allora all'interno troviamo un gattino due accessori e il pongo insomma con la pasta la pasta modellabile e della asbro potendo 5 grammi e andiamo a vedere questa è la check andiamo subito a vedere che carini che sono allora indietro così troppo carini guardate e questa è la check che mettiamo qua da parte per vedere dopo cosa troviamo poi c'è questo librettino qui e poi abbiamo trovato questo qui che dovrebbe essere tipo latte al cioccolato che dovrebbe essere non c'è la che dovrebbe esserci quelli più rari e quelli meno rari però non lo so non c'è scritto boh non vi so dire se sono quelli più rari o no comunque tiriamo fuori la nostra scatolina che non uscirà mai ecco qua la schitis e apriamo subito ok e c'è questo disegno qui adesso scaviamo e dovrebbe e dobbiamo trovare gli accessori ecco qui il nostro pacchettino che qua c'è il gattino poi vediamo ecco i accessori vediamo se riesco a toglierli allora qua c'è uno dog e una farfallina verde e lo dog questi sono i due oggettini non andiamo a vedere il l'adesivo perché sennò ci spoileriamo che gattino a quindi lo andiamo a vedere dopo allora andiamo ad aprirlo prendo le forbici e vediamo un po no ma quanto è bello ragazzi guardate che bello nel trancio della pizza oddio è troppo carino troppo troppo veramente andiamo a vedere qua come si chiama allora eccolo qua ci si ci ci si tipo formaggio o qualcosa del genere ma è troppo carina dai troppo troppo veramente troppo carino andiamo a vedere il nostro adesivo eccolo qua eccolo qui è troppo carino e poi abbiamo comunque questo pomgo che è veramente tanto poi ci si può giocare insomma ti rimane per giocarci questo è il color cappuccino quindi appoggiamo un attimo qui questo è veramente bellissimo veramente bellissimo allora appoggiamo tutto qui e andiamo aprire il secondo eccolo qua stessa cosa e via questo è la check il libricino wow fucsia tiriamo fuori sempre con lo stesso disegno vediamo cosa troveremo proprio bello questo colore blu c'è il gattone lo lasciamo in parte in ottimo e vediamo gli oggettini allora c'è sto coso che non so che roba è sia non ne ho idea se mi provo non so cosa sia vedremo poi dal personaggio e dovrebbe esserci anche un'altra roba eccola qui senza vedere l'adesivo che è una spazzolina lilla ecco qua come colore degli oggetti è uno verde e uno lilla allora lasciamo un attimo in parte e apriamo il sacchettino e vediamo che cosa troveremo ok 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 oooole oooole ne è questo oddio quanto è carino guardate oddio santo è troppo bello eh però questo non so che cosa sia sinceramente non so se è un cappello boh e adesso vediamo come si chiama allora vediamo un po' eccolo qua si chiama flufferton e però non capisco se sapete voi quali sono i rari quali comuni eccetera eccetera scrivetemelo qua sotto perché non ne ho idea sinceramente adesso andiamo a vedere il nostro sticker che carino guardate troppo carino e niente questo era anzi questi due erano sono anzi quelli che ho trovato sono davvero carini ma davvero soprattutto questo è molto molto carino anche questo ma questo mi piace perché c'è la pizza troppo troppo teneri e niente ditemi se anche voi l'avete acquistati se si quali scrivetemi il fatto del raro o non raro insomma come si leggono e niente io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se è così lasciate tanti like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui ultimi video io vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao